Dopo la stesura del piano del rumore, il Comune vuole partire anche con controlli delle emissioni del rumore piazza per piazza. Questo consentirà di valutare ogni sforamento di decibel dei limiti imposti dal nuovo piano, scongiurando magari l'insorgere di cause giudiziarie come è accaduto finora. Dunque, dopo l'ampliamento del sistema di videosorveglianza in corso, anche il monitoraggio del rumore sarà una realtà breve. Manca pochissima l'approvazione del nuovo piano del rumore, l'approvazione definitiva. Il piano inserisce il centro storico nella cosiddetta quarta fascia, una fascia che prevede dei limiti nelle emissioni, sia di notte che di giorno. Per questo, chi vuole organizzare delle serate nel proprio locale potrà farlo tutte le sere, ma dovrà necessariamente tenerne conto. Nuove regole dunque per cercare di conciliare il giusto divertimento con il riposo dei residenti, in una querella che ormai va avanti da troppo tempo. Il piano prevede pure che si possa richiedere un monitoraggio acustico a carico di chi lo richiede, però. Ma il Comune sta valutando con l'Arta, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, la possibilità di creare dei pacchetti per effettuare comunque dei controlli in centro storico. E l'assessore Fabrizio Taranta fa sapere che, ad ogni modo, sono in contatto stretto con due società, per potersi dotare di sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico cittadino, con dei dispositivi fonometrici fissi, così da capire bene la situazione e dove intervenire.